Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie, ti devo dire. Buon proseguimento. E' simpatico. Tutti bene, mi hai risposto. E' stato un po' gelida quello, l'ho visto anch'io. Ma giudone? Scotti per cena? No, per dessert, Simone, un po' di ordine. Allora, sai che c'è? Voglio intanto motivare il perché l'ho portato da Flower Burger. Ma sono uguali? Scusami, ti interrompo. No, sono diversi proprio perché voglio farti provare di più. Però invertiamo per un motivo che scoprirai a brevissimo, grazie. Tanti biscotti ci sono più biscotti che panini. No, perché alcune sono tipo melanzane fritte. Sì, non è che l'ho fatto, l'ho improvvisato, non è che... Ma non è che l'ho fatto... Certo, io guardavo la clip e intanto con la penna scrivevo. Ma coq, ma vabbè. Parla di me in una barra. Ma... Ma la frutta qua proprio... Ma cascano proprio le pierozze, eh? Ragazzi! Sì. 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 per esempio ti faccio una pompa scusami non so non so come mi è uscito ho sbagliato scusami ti chiedo veramente scusa io ero al funerale di mia nonna ci vediamo domani si un sacco di cose nuove e sto improvvisando e non me ne frega un cazzo si saluto tutti ciao spav ciao guf e me torta rughe morte tutto un abbraccio ci vediamo domani e invece no ci vediamo oggi eccoci ho pensato di scammare ma non lo fa aspetta 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 amore eccomi non te l'ho montato lo so amorino è molto invitante più che altro perché non l'hai prenotato scusami prima si prenota la casa e poi si prenota il muore che cazzo l'ha detto questa roba boro boro ho capito tu c'hai inteso cristiano ma basta un grande eh sottolineo non ho capito ma da che mondo è mondo scusami se poi prenoti la casa e non ci sono i voli che cazzo dici mangiare tra l'altro è tutto ciò siamo arrivati ai dolci siamo tra pochissimo siamo arrivati ai dolci vegani io però sto scoppiando Simo ti posso chiedere una cosa per favore un cestino? no no rimangono delle melanzane e delle patate mi aiuti a mangiarle dopo il milkshake certo ah è vero hai ragione no 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 figurati davvero insisto tanto sul cesso ci andiamo tutti cioè veramente perché ci rimango male a buttare il cibo buona poi proprio dopo il milkshake è un spettacolo bellissimo ma poi l'hai chiamato così per Maurizio Costanzo è deceduto purtroppo ma perché l'hai chiamato così per Maurizio Costanzo? perché non ha il collo è un gatto enorme proprio grossissimo caracca brutta immagine brutta immagine cioè non Maurizio non so cioè adesso vabbè non so con chi vabbè pronto immagine che dormi nel mio letto è molto più carina davvero ma ci stiamo provando con me? no affatto ok vabbè iniziamo a mangiare qualche pianta poi ci chiamo allora abbiamo preso un po' di roba innanzitutto partiremo con vediamo perché il linguaggio è importante ma hai chiamato tesoro più a lui? no 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 100% anch'io ti l'hai pure chiesto posso chiamarti tesoro di da fastidio? e qua Maria Sofia stavo cercando di mistificare perdona volevo farti sentire speciale l'ho fatto per te non è meglio una bella bugia piuttosto che... no è meglio una bella bistecca comunque meglio un bello che ti stai zia comunque comunque allora facciamo così mangiamo un attimo anche il secondo il secondo vabbè vabbè aprì beh a Milano se non c'è qualità a Milano dove ci deve essere? no però beh qualità per quanto riguarda i locali vegani a Roma sono forti cioè il rifugio romano fa paura ci fanno certe tagliate della madonna imbevute di vino ma tu scopresti mai con del cibo addosso? si a voglia ovviamente ma oh ti pare fighissimo tipo? l'hai già fatto? no purtroppo no però lo farei e come? chiudiamo questo intanto? si certo scherzo davvero insisto non lo fanno no sei brutto il cibo è bello davvero? cioè posso essere un aspirante ottimo amico? si e un aspirante ottimo partner? non circo partner ma proprio non lo cerco proprio che non lo voglio cioè pure se arriva gli dico no dai è un'esperienza ma o un big mac o anche un panino di burger wave cioè questo qua lo lancio proprio quello vedo partire e andare nell'altro palazzo capito? non so come dire è quello che cioè il problema non so come ma infatti perché ti ripeto come lo hai detto prima inconsciamente è ancora un metodo di paragone io qui non ti ho portato ad assaggiare un qualcosa che si propone di sostituire ciò che conosci ma che dà delle alternative è un'alternativa del cazzo il circo del frero riparte non sarà un ban a mettermi da parte uh ho solo due paia di scarpe un paio di neck e poi delle ciabatte ah cazzo mi odi che cazzo mi tocchi ma cosa pensi che mi aspetta? non dirmi che godi se mi hanno bannato che ti fai le fippe su berda se pensi ad uccidere tutti gli ipocriti faccio sterminio di massa mi hanno bannato ma sono tornato quindi ora si apre la casa odio la pampa odio la gancia e chi non hai te ne passa odio la fanta odio la star che sponsorizza telegram ti fu una squadra ma è un sito che si è abbonato come per i porno o come per i miei holly fans amore? no mi sono disdetto il tuo holly fans davvero? si ho trovato un modo per trovarli gratis cherso non sto aspettando no questo non devo fare la scuola guarda che gratis è possibile ma anche senza vedere su telegram se finisci di mangiare finisci di mangiare e poi cosa succede? non lo so finisci di mangiare ho detto che è possibile non che certo porca vacca porca vacca vedi? mi sento veramente